Ciao, sono Marcello Napolitano. Vengo dagli Stati Uniti, dall'Oregon. Sono l'Oregon Randonneur. Come vedete faccio randonnearing su tre ruote. Ho un tercicolo reclinato che uso da molti anni. Per le lunghe distanze. L'idea nasce dal... Dopo aver fatto la mia prima 1200 km e aver trovato che ho avuto problemi alle mani e ai piedi. Ho scelto qualcosa che è molto più comoda e magari un pochino più dura da usare. E richiede un po' di imparare come la muscolatura è un po' diversa. Però è comodissimo. Una di questi giorni, se ho bisogno di fare un pisolino, basta che mi appoggio la testa e chiudo gli occhi. Ad alte velocità, magari in discesa, riesce a tenerla molto più facilmente. Per il resto è molto simile. Come struttura, a parte il fatto che ha tre ruote, è molto simile a una bicicletta roma. Stessi pedali, stessi tagliatori, stessa catena. Voglio prendermi alla comoda e divertirmi. Se ho più tempo, lo uso per dormire, per mangiare, piuttosto che cercare di arrivare il tempo presto. Per cui credo che sarà qui tra cinque giorni, più o meno.